...e organizzate. Ogni calza viene utilizzata su una forma di alluvio riscaldata nella dimensione giusta per ogni partita di calza. Un sistema di allineamento laser aiuta a posizionare vari intangoli e le altre parti della forza. Le forme ora entrano in una macchina per il fissaggio con fattore a pressione per 4 secondi. Questo veloce piantamento con il fattore consente al nylon di asciugare i contorni della forza. Le forme in un'asciugatrice dove restano per il 15 seguito. L'aria calda fa evaporare l'eventuale unità derivante dal vapore, così che quando la calza viene rinvossa dalla forma è asciuta e della giusta conformazione. Le calze vengono ora raccontate in tira e da 10 paia e ogni tira viene collocata in un sacco di tira determinato colore, a seconda della dimensione e del modalità. Il sacco del lavoro è accattato nella macchina per la tira. Il software controlla automaticamente ogni aspetto del processo di tira, compresi i livelli dell'acqua. La temperatura e la quantità di tira.